Ma per quale motivo? Ha mai ricevuto una telefonata da me su come fare il Tg? No. No, lo dica. Ha ricevuto una telefonata da me? Ha mai ricevuto una telefonata? Ma lei personalmente? No, mai. Ma lei personalmente? Non so, neanche lei personalmente no. Sto dicendo da lei personalmente. Comunque non entriamo.